liberalizzazioni primo positivo segnale di inversione la burocrazia costa le piccole e medie imprese 23 miliardi di euro l'anno no all'incremento dei contributi previdenziali a carico degli autonomi per finanziare le pensioni dei lavoratori precoci canone rai e bollo auto esenzioni possibili per i pensionati bentornati al telegiornale di conf artigianato pordenone è il primo concreto segnale di inversione per liberare imprenditori e cittadini dei pesanti costi derivanti dai mercati protetti e dalle rendite di posizione e per contribuire a stimolare la crescita del paese così il presidente di conf artigianato pordenone silvano pascolo commenta il decreto sulle liberalizzazioni varato dal governo esprimiamo il nostro apprezzamento per le misure in materia di energia che ci auguriamo possono ridurre l'attuale spread del 30 per cento tra i costi per le imprese italiane rispetto alla media dei maggiori paesi europei e quelle sui servizi pubblici locali le cui tariffe negli ultimi dieci anni sono aumentate del 27 per cento in più rispetto alla media ue dichiara silvano pascolo altrettanto positiva l'istituzione del tribunale delle imprese che testimonia la volontà di aggredire il grave problema dei ritardi della giustizia civile che costano 2,2 miliardi l'anno alle aziende italiane così come apprezziamo le norme che nel solco dello small business act aumentano le tutele delle micro e piccole imprese conf artigianato pordenone si aspetta maggiore coraggio su fronti decisivi per abbassare gli oneri a carico delle imprese dei cittadini come il mercato delle assicurazioni e secondo pascolo esistono margini per interventi più incisivi anche nel sistema del credito gli artigiani pordenonesi sollecitano poi altre azioni del governo su aspetti decisivi per le imprese come le semplificazioni e che si concretizzano gli annunciati interventi su un problema drammatico per le piccole imprese qual è quello dei ritardi di pagamento della pubblica amministrazione. Il peso della burocrazia costa le piccole e medie imprese 23,1 miliardi di euro ogni anno. In pratica ogni azienda italiana con meno di 250 dipendenti subisce un onere medio annuo pari a 5.269 euro. A fare i conti è stata la CGA di Mestre. L'inefficienza della pubblica amministrazione e l'applicazione spesso cervellotica di leggi, circolari e regolamenti vari si abbatte in maniera più decisa sulle piccole e medie imprese che su quelle medie e grandi. Il settore che incide di più sui bilanci delle piccole e medie imprese è quello del lavoro e della previdenza. La tenuta dei libri paga, le comunicazioni legate alle assunzioni o alle cessazioni di lavoro, le denunce mensili dei ritardi retributivi e contributivi e l'ammontare delle retribuzioni delle autoliquidazioni costano 9,9 miliardi l'anno, mediamente 2.270 euro per azienda. L'area ambientale invece pesa sul sistema delle piccole e medie imprese per 3,4 miliardi di euro l'anno. A livello medio i costi annui pesano per 778 euro ad impresa. Le autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue, la documentazione per l'impatto acustico, la tenuta dei registri dei rifiuti e le autorizzazioni per l'emissione in atmosfera sono le voci che determinano la gran parte degli oneri di questo settore. Il costo amministrativo che le aziende devono sopportare per far fronte agli adempimenti in materia fiscale ammonta a 629 euro l'anno. Gli altri settori che incidono sui costi amministrativi delle piccole e medie imprese sono la privacy, la sicurezza sul lavoro, la prevenzione incendi, gli appalti e la tutela del paesaggio e dei beni culturali. È inaccettabile per Confartigianato Pordenone l'ipotesi di innazzare gli oneri a carico dei lavoratori autonomi per reperire risorse con le quali finanziare le pensioni dei lavoratori precoci. È assolutamente inaccettabile l'ulteriore aumento delle aliquote contributive pensionistiche a carico dei lavoratori autonomi previsto dalla riformulazione del decreto 1000 proroghe operata dalle commissioni alla Camera. È la posizione di Confartigianato Pordenone che rafforza quella già assunta da Rete Imprese Italia. Non è giusto, rimarca il Presidente Silvano Pascolo, che i lavoratori autonomi sopportino il costo di copertura della spesa per finanziare il pensionamento senza penalizzazioni dei lavoratori precoci di tutte le categorie. Servono soluzioni più eque, ovvero in grado di evitare che chi ha iniziato a lavorare a 18 anni sia costretto a concludere la propria carriera a 67, ma anche che chi già sopporta un peso importante per garantirsi una pensione, che non lo ripagherà dei sacrifici fatti, debba farsi carico di ulteriori costi. E ANAP, Confartigianato Pordenone, l'associazione che riunisce gli artigiani pensionati, ricorda che Canone Rai e Bollo Auto possono non essere un obbligo. Già la finanziaria 2008 aveva abolito il pagamento del Canone Rai per gli over 75, con un reddito non superiore a 516,46 euro per 13 mensilità. Per beneficiare dell'agevolazione va presentata domanda alla Rai entro il 30 aprile per gli abbonamenti annuali ed entro il 31 luglio per quelli semestrali. Per i pensionati che non hanno raggiunto i 75 anni, ma hanno un reddito non superiore ai 18 mila euro, il Canone può essere pagato in 11 rate. Agevolazioni fiscali sono previste anche per la tassa automobilistica, il bollo auto. In questo caso, spiega Giuseppe Sartini, presidente dell'ANAP Pordenone, il beneficio, l'esenzione al pagamento del bollo, si applica ai veicoli di proprietà di persone disabili o dei familiari che lo hanno a carico. Per ottenere le agevolazioni va presentata domanda all'Agenzia delle Entrate o all'ACI. L'ANAP è a disposizione degli associati per chiarimenti e per l'espletamento delle pratiche. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale. L'appuntamento alla prossima settimana. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Grazie a tutti.